ragazzi faccio il video prima che finico cazzo si abbassa qua prima che finisce il primo tempo mancano quattro minuti devo andare a mangiare che abbiamo lavorato e niente ragazzi il parma ci sta sottomettendo ma non me la sento di dare la croce addosso ai nostri giocatori perché il parma ha giocatori di strappo ha giocatori di contropiede ha giocatori che saltano l'uomo ha giocatori anche un po più tecnici soprattutto in attacco di noi cosa che noi non abbiamo quindi siamo questi e la squadra è quella che ci stanno mettendo l'anima ci stanno mettendo tutto purtroppo quando si è limitato dal punto di vista del talento ecco occhio che attaccano per il 2 a 0 di inter ci è rimasto solo il nome stiamo affrontando una squadra tecnicamente più forte tecnicamente più forte noi giocatori da me da metà classifica che però saltano l'uomo come gervinio come culuseschi non ce l'abbiamo e quindi sarà sempre così subiremo anche squadre come il parma quest'anno cerchiamo di finire di tamponare e di guadagnare il quarto posto della qualificazione e l'anno prossimo bisogna fare il salto di qualità quindi finiscono le critiche da oggi in poi per l'inter perché la squadra è un agglomerato di giocatori di tanti giocatori di tante nazionalità ma non vedo assolutamente né gruppo né coesione né organizzazione non si vede nulla oggi oltretutto conte in tribuna e quindi non c'è niente di arrabbiarsi il parma tecnicamente è superiore noi siamo più superiori solo dal punto di vista offensivo occhio solita simulazione di solita simulazione di latoro martinez e quindi non mi va proprio di dare addosso a nessuno perché questo è l'inter non è semplice sono 9 anni 10 anni che veniamo umiliati tecnicamente da quasi metà serie a posto così qua da mangiare che merito